Eccoci e bentornati sul mio canale! Riprendiamo con l'apertura dei lanci di rifornimenti su Call of Duty Advanced Warfare oggi un mega opening pack ebbene, tre lanci di rifornimenti avanzati un altro normale, un altro normale e un altro normale quindi in questi tre io spero di trovare tante belle cosine ho cercato di accumularne un po' per fare un bel video corposo partiamo subito con il lancio di rifornimenti standard, rinforzo, cappello, rinforzo altri dieci minuti di punti doppi, molto molto bene che ce li possiamo sparare per l'ultimo prestigio, non capisco perché sono uscito andiamo al secondo normale, da Yabra Cowboy che già abbiamo fatto, aviazione Sentinel e non ci facciamo, un'emerita c'è pa andiamo con l'altro normale R-W-1 Holiday finalmente un'altra arma elite che posso metterla nella mia classifica arma portatile a canna basculante danni elevati c'è una portata più alta mentre la precisione è inferiore questa ce la teniamo andiamo sui lanci di rifornimenti avanzati ben tre oh Exo Laguna pantaloni Atlas 20 mm presto però l'Exo Laguna verde ci piace tanto pantaloni vigilante Atlas 1 di 8 quindi mancherebbero altri sette pezzi per avere i punti esperienza del 5% in più andiamo con il secondo lancio di fornimenti cacchio che schifo ragazzi questo è uno dei lanci di fornimenti più schifoso mai visto in quelli avanzati perché in quelli avanzati sempre si trova qualcosa di bello di elite soprattutto anche se sono armature Exo niente da fare andiamo all'ultimo andiamo all'ultimo su elite che cacchio mannaggia la miseria la roba elite ma niente di quello che mi poteva servire di quello che cercavo stack up a 12 rip e non riesco a trovarla vabbè dai ci possiamo accontentare che abbiamo trovato un bel po' di Exo da utilizzare e da rivendere per fare i punti esperienza va bene spero che il video sasse di vostro gradimento se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale e condividete il mio video ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale